John Reginald Christie Soprannome Il collezionista di cadaveri Luogo omicidi Londra, Inghilterra Periodo omicidi 1943-1953 Numero vittime 8 Modus operandi Strangolava le vittime Necrofilo Catture e provvedimenti Impiccato il 15 luglio 1953 John Reginald Christie Nacque a Sheffield Nel 1898 In una famiglia dove L'elemento femminile prevaleva Christie aveva quattro sorelle E dove l'unico elemento maschile Il padre Cercava in ogni modo Spesso con sistemi violenti Di dare al suo unico figlio maschio Un'educazione maschilista Il padre di John era un uomo violento Che picchiava frequentemente il figlio Talvolta lo costringeva addirittura A camminare marciando militarmente Dal canto suo La madre era una donna Iperprotettiva e apprensiva Che cercava sempre di proteggere il figlio Chiudendolo in un guscio di affetto materno Nel quale John si crogiolava fin troppo Tanto da non riuscire a socializzare All'esterno della famiglia Negli anni dell'infanzia Christie divenne presto Un bambino solitario Ipocondriaco Pieno di fobie E seppure fosse molto attivo Sia a scuola Che nella chiesa O in varie attività sportive Non era riuscito a farsi nessuna amicizia Quando aveva otto anni Suo nonno materno Morì e i genitori gli chiesero Se voleva vederlo durante la veglia funebre Christie rispose affermativamente E sorprendentemente Ne rimase affascinato Dopo quell'esperienza John sceglierà il cimitero Come suo luogo preferito di giochi Divertendosi in particolare Ad osservare tra le fessure e le crepe Delle tombe Nella speranza forse Di rivedere lo spettacolo Che lo aveva tanto affascinato Durante la veglia funebre del nonno Sessualmente Christie era un ragazzo inibito Il suo primo turbamento All'età di dieci anni Capitò quando vide di nascosto Le gambe nude della sua sorella più anziana Ma quell'evento lo rese ulteriormente frustrato Christie non aveva un buon rapporto con le sorelle Che tendevano sempre a comandarlo E a dirigerlo E dopo quell'evento Se ne sentiva anche attratto sessualmente Conscio di non poter mai soddisfare O esplicitare quel suo turbamento Era diventato molto nervoso E i successivi primi insuccessi amorosi Durante l'adolescenza Non fecero che peggiorare la situazione Christie cominciò così a sviluppare Un profondo odio nei confronti delle donne Ed in particolare delle donne Da cui in un modo o nell'altro Si sentiva tentato o attratto Al tempo stesso Ne aveva paura E queste due emozioni insieme Si fusero in una profonda E radicata rabbia represso Nei confronti delle donne in generale John abbandonò gli studi all'età di 15 anni E lavorò come operatore in un cinema Fino a quando non iniziò la prima guerra mondiale Fu quindi chiamato alle armi Ed entrò nell'esercito Ottenendo anche una discreta stima Dai suoi superiori Fino a quando un giorno Durante un'azione di guerra in Francia Venne coinvolto in un attacco con gas Subendo gravi conseguenze Rimase momentaneamente cieco E perse la voce Tanto che fu esonerato dal servizio Per motivi di salute Christie continuò a patire Degli effetti dei gas Per molto altro tempo Tanto che riacquistò la voce Dopo tre anni Anche se secondo alcuni medici Che lo visitarono all'epoca Si trattava in realtà Di una reazione psicosomatica Dovuta al trauma subito Durante l'attacco Dopo la guerra Christie tornò a svolgere il suo lavoro Che poi cambiò Diventando un impiegato Nel 1920 Christie Ancora muto per effetto dei gas Si sposò con una donna Di nome Ethel Simpson-Baddington Anche dopo il matrimonio Le sue difficoltà sessuali Continuarono Ed Ethel Non fece nulla Per venirgli incontro Non esitando a criticarlo E offenderlo per le sue incapacità Christie Che dall'età di 19 anni Frequentava anche prostitute Non trovava sollievo Neanche con loro Che Pur non pretendendo nulla da lui Non esitavano a prenderlo in giro Ed umiliarlo Ricordandogli sempre La sua incapacità A soddisfare una donna normale Poco tempo dopo il matrimonio Christie cambiò nuovamente lavoro Diventando postino Fu durante lo svolgimento Di questo mestiere Che si mise per la prima volta Nei guai con la giustizia Rubando alcuni vagli apostali Come conseguenza di questo atto Christie venne incarcerato Per tre mesi Dopo il ritorno a casa Riacquistò la voce Durante un litigio con il padre Per poi perderla nuovamente E riacquistarla definitivamente Dopo altri sei mesi Passarono neanche due anni Da quel primo arresto Che Christie Si mise nuovamente Nei guai per altri furti Mentre lavorava come postino Finendo di nuovo in prigione Per un breve periodo Cominciavano inoltre A circolare con insistenza Delle voci A proposito del suo Frequentare le prostitute E in parte per queste sue abitudini In parte per i suoi problemi Con la legge I rapporti con la moglie Si incrinarono ulteriormente Fino a degenerare nel divorzio Dopo la separazione dalla moglie Christie decise Di trasferirsi a Londra I primi anni a Londra Non furono facili per John Che dopo quattro anni Finì nuovamente Nelle patrie galere Stavolta per nove mesi Con l'accusa di furto Uscito dal carcere Sempre più disorientato Passò da un lavoro precario All'altro E per un certo periodo Convisse con una prostituta Fino a quando un giorno Durante un litigio La colpì alla testa Con una mazza da cricket Finendo in prigione Per altri sei mesi Su di lui In tribunale Gravava anche il sospetto Di aver commesso violenza Su altre donne Ma per mancanza di prove Venne condannato Solo per la violenza Commessa sulla convivente Uscito di prigione Christie non trovò alternative A continuare una vita Fatta di lavori precari Espedienti e furti Nell'arco di poco tempo Finì nuovamente in carcere Per aver rubato l'auto Ad un prete Che aveva provato Ad aiutarlo Fu durante questo Ennesimo soggiorno In galera Che John Ricontattò l'ex moglie Chiedendole di tornare A vivere con lui Una volta Che fosse uscito Di prigione L'ex moglie accettò E nel 1933 Raggiunse John a Londra Sposandolo nuovamente Poco tempo dopo La nuova unione John ebbe un brutto Incidente automobilistico E fu costretto Ad un lungo periodo In ospedale Una volta guarito Tornò a casa Con alcuni aspetti negativi Del suo carattere Uteriormente peggiorati In particolare L'ipocondria Negli anni successivi Cristi lavorò poco E rimase molto tempo a casa Ossessionato dai suoi disturbi E dalla paura Di ammalarsi Nell'arco di 15 anni Si sottoporrà A ben 173 visite mediche La maggior parte Delle quali Senza validi motivi Nel 1938 La coppia Si trasferì Al piano terreno Con uso esclusivo Del giardino sul retro Del numero 10 Di Rillington Plus Una piccola Squallida casa Vittoriana Su tre piani A ridosso del muro Di una fabbrica E con il bagno In comune Con gli altri inquilini Tra i tanti eventi Negativi Vissuti fino ad allora Cristi ebbe anche Qualche fortuna Proprio in un periodo Che invece La maggior parte Delle altre persone Non ricorderà Con piacere La seconda guerra mondiale Cristi era già Troppo vecchio Per poter essere Richiamato alle armi Ma in compenso Venne accettato Come membro volontario Nella milizia territoriale Uno speciale corpo Della polizia Che si occupava Di mansioni Di controllo Del territorio Mantenimento Del coprifuoco Oscuramento Di determinate zone Durante gli attacchi Aerei Via discorrendo Gli ufficiali Che risposero Alla sua domanda Probabilmente Non controllarono I suoi numerosi Precedenti Così Cristi All'età di 42 anni Tornò a vestire Un uniforme Rimase nel corpo Di polizia Per 4 anni E quello fu Probabilmente Il periodo Più felice Della sua vita Finalmente Aveva uno scopo Da portare avanti E si immedesimò A tal punto Nel suo compito Da diventare Un fanatico Sostenitore Della legge Tanto che Tra i colleghi Si guadagnò Lo scherzoso Soprannome Di Himmler Di Rillington Plus Cristi Prese talmente Sul serio Il suo lavoro Da arrivare Al punto Da spiare I suoi vicini Di casa Alla ricerca Di ogni Minima infrazione Un'altra Particolarità Che gli piaceva Di questo lavoro Era la possibilità Di avvicinare donne Con maggiore facilità Grazie alla divisa Tant'è che si fece Anche un amante Il cui marito Era in guerra Ed approfittando Delle numerose assenze Della propria moglie Spesso si recava Da lei A passare ore liete Almeno fino a quando Un giorno Il marito Rincasò A sorpresa Scoprendo il tradimento E riempiendolo Di botte Dopo quella Christie incontrerà donne Solo a casa propria Una di esse Ebbe la sfortuna Di diventare La sua prima vittima La prima vittima Di John Reginald Christie Fu Ruth First Una immigrata austriaca Di 21 anni Che lavorava Come operaia In una fabbrica Di munizioni E che di tanto in tanto Arrotondava lo stipendio Facendo la prostituta Christie conobbe Ruth In un pub Durante l'estate Del 1943 E riuscì Ad ottenere Il suo interesse Facendo leva Sul suo ruolo Indivisa Ruth cominciò Così a frequentare La casa di Christie Al numero 10 Di Rillington Plus Ogni volta che La moglie di John Si trovava a Sheffield Dai parenti Durante uno di questi Incontri clandestini Accadde un imprevisto John ricevette Un telegramma Dalla moglie Che lo avvertiva Che stava tornando Anzitempo insieme Al fratello Christie preso dal panico Disse a Ruth Di andarsene immediatamente Ma lei si era Già spogliata Voleva fare l'amore E rifiutò Di andarsene Christie decise Così di risolvere Il problema In modo estremo Fece l'amore Con lei E Durante l'amplesso La strangolò con una corda Terminato il rapporto Con quello Che ormai era un cadavere Avvolse il corpo di Ruth Con i suoi vestiti E lo mascose Sotto un asse di pavimentazione Nella cucina Quando la moglie Tornò a casa Insieme al fratello I due non si accorsero Di nulla Il giorno dopo Il fratello della moglie Se ne andò via E durante la notte successiva Christie Tirò fuori il cadavere E lo seppellì Nel giardino I vestiti Furono inceneriti Il giorno successivo Mesi dopo Fortuitamente Christie Disotterrò il teschio di Ruth E inceneri anche quello La scomparsa Della ragazza Fu segnalata Alla polizia Il primo settembre Ma le indagini Non portarono A nessun risultato Si sono fatte Svariate ipotesi Sui motivi Che hanno portato Christie Ad uccidere Per la prima volta Una delle più accreditate È che dopo L'umiliazione Sofferta dal marito Tradito Christie Aveva un'assoluta necessità Di manifestare nuovamente Il suo potere Per trovare di nuovo Fiducia in sé stesso E lo manifestò Nella maniera più tragica Uccidendo Dopo quel primo omicidio Christie scoprì Di non riuscire più A provare piacere Con le donne A meno che queste Non fossero immobili Ed inermi Il suo lato Più strettamente Necrofilo Era tornato a galla E presto Si sarebbe manifestato In nuovi crimini Un anno dopo Quando il suo compito Nella polizia Terminò Christie Trovò lavoro In un'azienda Di apparecchi radio Ed anche la moglie Cominciò a lavorare In una fabbrica All'incirca Nello stesso periodo Christie Conobbe quella Che poi diventerà La sua seconda vittima Murielidi Una donna di 32 anni Che lavorava Nel reparto Assemblaggio Dell'azienda In cui lavorava Anche lui I due fecero amicizia E Christie Invitò varie volte Muriel E il suo fidanzato A casa propria Dove Etel Preparava loro il tè E talvolta anche la cena Muriel non era Una donna Particolarmente affascinante Era bassa di statura Piuttosto robusta E non aveva Un bellissimo viso Ciò nonostante Christie Posò più di una volta Gli occhi su di lei E venne preso dal desiderio Di riprovare le intense emozioni Provate l'anno prima Con Ruth First Fino a che decise Di escogitare un piano Per rendere ciò possibile Nell'ottobre del 1944 Etel tornò per un certo periodo A Sheffield Dai parenti E Christie Decise di approfittarne Passando all'azione In quel periodo Muriel soffriva Di una fastidiosa Tosse a Christie Facendo leva Sulle nozioni Di pronto soccorso Imparate durante il lavoro Nella polizia Invitò Muriel A casa sua Sostenendo di avere Un rimedio efficace Contro il catarro Di cui lei soffriva La ragazza si fidò Senza temere nulla E si recò al numero 10 Di Rillington Plus Ignorando che la attendeva Una trappola Pressoché perfetta Christie aveva preparato Una vaschetta di vetro Con un coperchio di metallo Dentro la quale Vi erano dei liquidi Per inalazioni Insieme ad alcune sostanze Profumanti Sul coperchio di metallo Vi erano due fori Attraverso i quali Passavano due tubicini Di gomma Uno era collegato Alla conduttura del gas Mentre l'altro Ad una specie di mascherina Attraverso la quale Muriel avrebbe dovuto Respirare il monossido Di carbonio Confidando in uno Speciale rimedio Contro il catarro Muriel iniziò Così ad inalare il gas Fino a ritrovarsi In stato di semi In coscienza Senza possibilità Di difendersi A quel punto Christie Approfittando Della sua debolezza La strangolò Con una corda Dopodiché Ebbe un amplesso Con il suo cadavere Provando nuovamente Quel senso di potere E al tempo stesso Di pace Che l'anno prima Aveva provato Con la sua prima vittima Dopo l'omicidio E l'atto necrofilo Christie scavò Una fossa nel giardino E vi seppellì Il cadavere Completamente vestito Non lontano Dalla prima tomba Arrivò il 1945 La guerra finì Anche se le difficoltà Economiche E di vita Della popolazione Durarono ancora lungo Christie riuscì Per qualche anno A tenere a freno I suoi impulsi Omicidi Fino a quando Nella primavera Del 1948 Questi non furono Risvegliati Dall'arrivo Di una nuova coppia Al terzo piano Dello stabile Al secondo Era venuto D'abitare un invalido Ex operaio Delle ferrovie Gli inquilini In questione Erano una coppia Di origine gallese Composta da Timothy Evans Di 24 anni E sua moglie Beryl di 19 In attesa Del loro primo figlio Timothy Evans Proviniva Da un'infanzia Difficile E soffriva Di vari problemi Fisici E psichici Nonché Di un ritardo Mentale Non indifferente Inoltre era Conosciuto Come un gran bugiardo E bevitore Accanito Beryl Da par suo Era una ragazza Carina Ma di unili origini E pretese Con scarsa cultura E intelligenza Sotto la media Dopo la nascita Della prima figlia Che chiamarono Geraldine Beryl rimase Nuovamente incinta Ma due figli Per loro Sarebbero stati Veramente troppi Ricoperti di debiti Com'erano E con difficoltà A gestirsi In maniera opportuna Beryl era Intenzionata Ad avere un aborto All'epoca ancora Illegale In Gran Bretagna E informò Tutti quelli Che conosceva Della sua intenzione Compreso John Christie Errore questo Che si rivelerà Per lei Fatale Christie Christie Approfittando Dell'ignoranza E dell'ingenuità Della ragazza Riuscì a convincerla Di avere una certa Esperienza Nella pratica Degli aborti Ed utilizzò Tutta una serie Di termini scientifici Che convinsero La diciannovenne Ad affidarsi a lui In quel periodo L'inquilino Del secondo piano Si trovava in ospedale Dove sarebbe rimasto Alcune settimane E Christie Premeditò Con precisione E crudelta Il suo terzo omicidio L'8 novembre 1949 Christie Salì al terzo piano Della casa Ma anziché Praticare l'aborto E di sorpresa La ragazza Strangolandola E abusando Sessualmente Del suo cadavere La sera stessa Quando Timothy Evans Tornò dal lavoro Trovò davanti a sé Christie Che gli disse Che la moglie Era morta Durante l'intervento Evans Di carattere debole E credulone Credette alla versione Di Christie Ed anziché recarsi Dalla polizia Con la figlia Geraldine E raccontare l'accaduto Ha consentì Incredibilmente Alla proposta di Christie Di aiutarlo A nascondere Il cadavere Di Beryl Che momentaneamente Fu sistemato Nell'appartamento Vuoto Il giorno seguente Il giovane gallese Tornò al lavoro E quando ritornò Christie Gli disse Che una famiglia Della vicina cittadina Di Acton Si era presa carico Di Geraldine Anch'essa era stata In realtà strangolata E che gli promise Che si sarebbe occupato Personalmente Di nascondere Al più presto Il corpo di Beryl In una botola Nel giardino Evans Stordito e confuso Non dubitò Neanche di una parola Ed accettò Il consiglio di Christie E Sempre su consiglio Di questo Vendette tutta la mobilia E tornò a vivere A Mertir In Galles Con una zia Superate tre settimane Di grandi tormenti Evans decise Finalmente di recarsi Alla stazione Di polizia Di Mertir Dove raccontò Una storia Senza capo Ne coda Che insospettì Notevolmente Gli inquirenti Evans Incapace Ad esprimersi Correttamente E manifestando Un comportamento Piuttosto bizzarro Tentò di difendere Christie E si inventò Che Beryl Era morta In seguito All'assunzione Di un prodotto Che avrebbe dovuto Provocare un aborto Inoltre disse Alla polizia Che il corpo Era stato messo In una botola Nel giardino Gli agenti Di Scotland Yard Decisero di fare Un'ispezione Sul posto Ma non trovarono Nulla Ed Evans Sempre più confuso Rilasciò Una seconda dichiarazione Stavolta Impecando Christie Nella vicenda Gli agenti Effettuarono Un'altra ricerca E stavolta Trovarono I corpi Di Beryl E Geraldine Vicino Ai due corpi Vi erano ancora I resti Di Murielidi Ma sorprendentemente La polizia Non li trovò Successivamente Al ritrovamento Dei due cadaveri Furono effettuate Le autopsie Che stabilirono Che le vittime Erano morte Per strangolamento Il che non coincideva Con la versione Di Evans Che nella sua Seconda dichiarazione Aveva affermato Che la moglie Era morta Durante un aborto Clandestino Praticato da Christie Evans fu portato A Londra Dove Senza alcun Consiglio legale Rilasciò Una terza Incredibile Dichiarazione In cui affermava Di aver strangolato La moglie Dopo un litigio Per motivi di denaro E di aver ucciso La figlioletta Due giorni più tardi Nel medesimo modo L'11 gennaio 1950 Iniziò un processo A senso unico Che si concluse In brevissimo tempo Evans venne assolto Dall'accusa Di aver ucciso La moglie Per mancanza di prove Ma condannato Per l'omicidio Della figlia Ragion per cui Fu condannato A morte Tramite impiccagione Christie Venne impeccato Nella vicenda E coinvolto Nel processo Ma riconosciuto Innocente Il 9 marzo Dello stesso Onno Evans Venne impeccato E riceverà Ufficialmente Giustizia Solo 13 anni Più tardi Nel 1967 Quando venne Stabilita con certezza La sua innocenza E la sua Ingiusta condanna I suoi resti Vennero rimossi Da un terreno Sconsacrato In cui erano Stati sepolti E trasferiti In un cimitero Cattolico di Londra Dopo il processo E l'esecuzione Di Evans Christie Entrò in una Profonda depressione L'ansia derivante Dalla paura Di essere scoperto E condannato L'aveva duramente provato Aveva perso il lavoro Ed nell'arco Di pochi mesi Aveva perso Anche più di 20 chili di peso Fu per questo Ricoverato per tre settimane Al termine delle quali Uno psichiatra Gli propose in vano Di passare un periodo Di ricovero In una clinica Specializzata Per fare ulteriori esami Ad ogni modo L'ipocondria Di Christie Peggiorò ulteriormente Ed in sugli otto mesi Si fece visitare Dal proprio medico Di famiglia Per ben 33 volte La situazione Migliorò leggermente Quando trovò Un nuovo lavoro Come impiegato Ma durò poco Christie Non riusciva più Ad essere preciso E costante nel lavoro E con una scusa Si licenziò Rimanendo nuovamente Disoccupato La moglie Non era affatto Contenta di tutto ciò Spesso lo rimproverava Prendendolo anche in giro Per la sua impotenza Sessuale La situazione In casa Diventava di giorno In giorno Più tesa Ed il fatto Che Ethel A causa di alcuni Suoi problemi Di salute Visitava sempre Meno i parenti A Sheffield Non faceva altro Che renderla Ancora più tesa Fu così Che la notte Del 14 dicembre 1952 Dopo soli cinque giorni Dal licenziamento Christie strangolò La moglie nel sonno E la nascose Sotto un asse Della pavimentazione All'interno dell'abitazione Pochi giorni dopo Scrisse una lettera Alla sorella di Ethel Asserendo che la moglie Non poteva più scriverle A causa di un problema Reumatico alle mani Mentre ai vicini Disse che Ethel Era partita per Sheffield E che presto anche lui L'avrebbe raggiunta Ormai solo nella casa E senza più controlli Christie sprofondò Ancora di più Nelle sue fantasie Perverse e morbose Fino a quando Nel gennaio del 1953 Perse completamente L'autocontrollo Ed uccise per ben tre volte Prima di essere scoperto Ed arrestato La sesta vittima Furita Nelson Una prostituta di 25 anni Che il 2 gennaio 1953 Venne strangolata E in seguito Stuprata nella casa Del suo assassino La settima Kathleen Maloney Uccisa nello stesso mese Venne sfissiata E strangolata Prima di essere stuprata Dal suo assassino Necrofilo L'ottava ed ultima vittima Hectorina McLennan Di 26 anni Venne condotta Rillington Plus Con una scusa E lì la strangolata E stuprata Tutti e tre i cadaveri Vennero nascosti In un buco Nella parete della cucina Una specie di armadio a muro Che poi fu coperto Con della carta da parati E un altro mobile Christie era riuscito Sempre a farla franca Ma era cosciente Che presto Avrebbe dovuto scappare Il fidanzato di Hectorina L'ultima vittima L'aveva visto in compagnia Di lei poco prima Che scomparisse Continuava a fare domande I parenti di Ethel A Sheffield Cominciavano a preoccuparsi Ed insospettirsi Inoltre John sapeva bene Che Nonostante la temperatura Molto bassa della casa Tra i 5 e i 10 gradi D'inverno Presto i cadaveri Che nascondeva Avrebbero cominciato A emanare odori Troppo cattivi Per essere sopportati Dai vicini Tutte queste considerazioni Lo portarono a decidere Di scappare In fretta e furia Christie non rispose Più alle lettere Dei parenti di Ethel Vendette tutti i mobili Letto compreso E Il 21 marzo Dopo aver subaffittato Illegalmente la casa Ad una coppia di nomerevili Scappò via Cominciando a vagabondare Senza meta per Londra Il proprietario Dello stabile Venne presto a conoscenza Del subaffitto irregolare Mandò via i rei E permise ad un inquilino Del piano superiore Un immigrato giamaicano Di nome Beresford Brown Di usare la cucina Al piano terreno L'uomo Facendo alcuni lavori Nella cucina Scoprì in un angolo Della parete Della carta da pareti Strappata che celava Una porta Pensando che si trattasse Di una dispensa Brown aprì la porta Puntò la torcia elettrica Nel buco E scoprì con orrore Un cadavere di donna Vestito solo Con un reggiseno Il giamaicano Chiamò immediatamente La polizia Che Giunta sul luogo Trovò altri due Cadaveri nella parete Poi un altro Sotto un asse di pavimentazione E ancora altri due Sepolti nel giardino Dopo la macabra scoperta Partì immediatamente La caccia Christie Che divenne il ricercato Numero uno Del remio unito Le ricerche Terminarono dopo Soli dieci giorni Quando Stanco e sfinito L'assassino Venne fermato Da un poliziotto Che lo aveva riconosciuto Mentre era affacciato Sul ponte Putney A guardare Con sguardo fisso I tamici Quando la gente Chiese al sospetto Se fosse John Christie Lui rispose Affermativamente E Senza opporre Resistenza Si fece arrestare E portare Nella stazione Di polizia Di Putney Dove confessò Di aver ucciso La moglie La Maloney La Nelson La McLennan La First Il processo Di Christie Cominciò Nel giugno Del 1953 L'imputato Basò la sua difesa Su una presunta Insanità mentale Ma la strategia Faceva acqua Da tutte le parti E non fu quasi Presa in considerazione Dopo un breve processo Christie Venne giudicato Colpevole Di omicidio Nei confronti Delle ex moglie E quello Bastò a fargli Ottenere una sentenza Di condanna A morte Tramite impiccagione Christie Venne impiccato Dopo un brevissimo Lasso di tempo Dal processo Il 15 luglio Del 1953 Scritto da Eraser E ad Trasformato in Audiolibro Dall'Eresiarca Questo e tanto Altro materiale Vi è offerto Da www.allofcrime.com Grazie per l'ascolto Grazie per l'ascolto Grazie per l'ascolto